Arriveranno in blocco intorno alle 13.30, orario in cui terminano le lezioni prima del turno pomeridiano per riportare a casa i propri figli per permettere loro di consumare un pasto regolare anziché farli mangiare il solito panino a scuola. E' la protesta singolare e silenziosa che metteranno in scena domani i genitori degli studenti dell'Istituto Masciangeli che frequentano le lezioni nei MUSP dell'ex caserma Cesare Battisti all'indomani dello slittamento del servizio di refezione scolastica che doveva partire lo scorso primo ottobre ma le verifiche presso i refettori locali degli edifici scolastici hanno allungato i tempi. A Palazzo San Francesco stanno facendo di tutto per rispettare l'impegno preso con le famiglie di avviare i servizi a novembre ma la strada resta in salita con sindacati e consiglieri di minoranza che in queste ore mantengono alta l'attenzione sulla vicenda che è in mano all'assessore comunale a ramo a Narita di Loreto. Le famiglie però senza dare troppo all'occhio hanno deciso di lanciare un segnale agli amministratori comunali all'indomani anche dell'allarme arrivato dalla CISL Medici e dal biologo nutrizionista Giulio Maria Ranalli sul fatto che mangiare panino a scuola tutti i giorni senza un regime alimentare adeguato porti pian piano a dei danni a livello della salute soprattutto per gli alunni della scuola primaria. Abbiamo deciso di andare a riprendere i nostri figli a scuola proprio di martedì domani quando tutte le classi hanno il rientro pomeridiano per far capire che il pranzo per la crescita dei nostri figli è un momento importante annunciano alcuni genitori. I muspe poi meritano un discorso a parte perché 23 ottobre data che sancisce il decorso del contratto è sempre più vicino. In settimana dovrebbero arrivare le risultanze delle verifiche che il comune ha condotto sull'ex liceo scientifico, sull'ex convento di Santa Caterina, i due mobili individuati come sede alternativa. Ma se salterà anche la soluzione dell'ultimo minuto non si escludono azioni di protesta anche eclatanti.